Buongiorno dal Miof, sono qui a Mosca come ospite di questa fiera, piccola fiera del mercato russo. Quindi adesso andiamo a fare una passeggiata e per il momento grazie, a tra poco. Buongiorno, sono qui con Vladim, titolare della Medica Star, un'azienda che si occupa di distribuzione e credo anche produzione, ora io lo chiediamo, di occhiali e prodotti per la contattologia e che si occupa anche di distribuzione, quindi di retail ottico. Buongiorno, 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 voi di cosa vi occupate sinteticamente? Noi ci occupiamo di due grandi business, il primo è la produzione di rastruzioni per le contattazioni e il secondo è la distribuzione di tutti i prodotti optici che bisogna fare per la visione optico. E quindi esattamente, voi vi occupate della distribuzione in una zona precisa della Russia o coprite tutto il paese? Nel nostro cliente si occupano da Kaliningrado fino a Vladivostok. Qual è la sua sensazione dell'evoluzione del mercato? Io sono venuta diverse volte qui in Russia e ho notato che rispetto a dieci anni fa gli ottici sono molto più maturi. Voi come distributori avete questa sensazione? Voi? 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 I vostri. Voi? Il mercato come funziona? Questi prodotti li producono loro o sono sempre importati? Questo prodotto è il nostro proprio prodotto. Nel prossimo anno è 25 anni. E qui siamo in Russia pionieri, perché siamo primi in Russia in Russia in Russia. Ok. Qual è il prodotto di punta, quello più avanzato che realizzano? Non tutti i rastori moderni, hanno diversi predisposti, ma per diversi tipi di rinzze, un po' diversi schemi di codi. Quindi credo che loro sono molti, ma in realtà loro sono proprio sopra quanto bisogna per rinzze per rinzze. Il mercato della rinzze funziona? È un mercato evoluto? Gli ottici lavorano bene con la rinzze? Il rinzze di rinzze funziona anche come in Italia. Ci sono due grandi rinzze di realizzazione. Il primo è proprio così, come deve essere. Sono i contattologi, le optiche. Il secondo è l'internet. L'ultima domanda, secondo lei qual è la grande sfida per il mercato russo da qui a cinque anni nell'ottica? L'ultima è la fine che, ovviamente, che, a l'internet, che, a l'internet, un po' di più, a la loro capacità di rinzze. Quindi, è stato un'interessante. L'unquee sono stati di pagare per i nostri spieghi, in modo di avere dei nostri spieghi, in modo di più, di più di più di più, di più di più di più di rinz. Grazie 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 mille Grazie mille Qual è la maggiora sfida, l'obiettivo più grande per il mercato ottico russo? C'era una crisi, ma è finita e ora il mercato è riuscita ora il mercato è riuscita io credo che le nonostrapposti che ci sono in Russia nel mercato ottico russo ci sono aiutato a che il mercato è consolidato e che il mercato è riuscita le nostre possibilità e che è iniziato più a crescere Senti, oltre a fare questa attività di consulenza e formazione e organizzazione fiere hai anche una rivista dedicata al settore dell'ottica che viene distribuita agli ottici quindi agli ottici abbonati su tutto il mercato Qual è ancora la funzione di un progetto editoriale stampato secondo te nel mercato di oggi? Sì, ma è uno di quei monstri che ancora scrivono questo giornale ma, comunque, abbiamo pensato e abbiamo già fatto in questo anno un grande portale che si chiama Optical Magazine .ru e ci siamo riusciti nella nostra versione del giornale Benissimo Senti, nel rinnovarti i miei complimenti vorrei chiedere a te sei soddisfatta del risultato di questa manifestazione? L'intervista più rock di questo mio reportage Moscovita sono stata felicissima di incontrare qui al mio famosca Bruno Palmigiani che, oltre ad essere una conoscenza nota del settore è anche, secondo me, una delle persone che ha segnato alcuni momenti, direi, storici dell'evoluzione del mercato dell'occhialeria in Italia Abbiamo praticamente restaurato un marchio che ha una storia il marchio Sover ha una lunga storia però ha bisogno di essere riattualizzato e di dargli un valore più fashion però il normale fashion usa materiali che a volte possono essere pesanti troppo visibili e ho fatto una scelta diversa ho voluto fare un minimal fashion che anche tecnicamente avesse un riscontro Mentre questa linea, che dicevamo prima questa qui più femminile viene fuori col marchio Sover Sì, viene fuori col marchio Sover ma la caratteristica comune anche a questa linea è la leggerezza una leggerezza che, secondo me, è fondamentale io ho fatto delle prove personali e mi sono reso conto che la leggerezza è molto apprezzata Sono qui con il direttore di Inveco un importante distributore per il mercato russo che lavora in Russia, in Ucraina e, mi diceva, anche in Kazakhstan e per marchi di un certo rilevanza dal puntista delle montature parliamo di Machon, Charman e altre linee e anche per quanto riguarda le lenti oftalmiche su marchi importanti come ad esempio Canon Buongiorno, grazie di essere qua con noi Voi avete un'importante presenza sul mercato russo sia come distributori sia come proprietari di una catena di negozi piuttosto importante qual'è la sensazione che avete sulla situazione attuale del vostro mercato? Beh, in realtà c'è alcune scelte ma il numero di servizi ha le prove e l'optica e le prezioni crescono ma il scelte rischia in strumento di più più che in strumento di più più spontanei cioè ogni rinno aumenta il numero di 5-10% al anno Ok, quindi una crescita diciamo così complessiva di quello che è il giro d'affari però magari un abbassamento qualitativo del prodotto che viene venduto? Prodazio non è meno la risulta di prodaggio è molto, molto meno ma il numero di piccoli più piccoli è sempre meno non è molto successo ma circa circa 20% al anno potrebbe essere se sarebbero così se sarebbero 10-13% sarebbero molto bene Senti, invece dal punto di vista della fiera trova è stato utile interessante poter partecipare a questo genere di manifestazioni ha significato ancora è utile per un distributore come loro molto grande nonostante nonostante mi off e devo dire anche dopo aver parlato con alcune delle persone che fanno parte sia dell'organizzazione sia degli espositori che posso confermare la mia impressione positiva detto questo che cosa posso dire? ripeto la mia impressione positiva persone che hanno voglia di lavorare un mercato fatto da giovani tantissimi giovani l'età media anche dei partecipanti al mio workshop era piuttosto bassa e questo è bello è bello perché vedi dove ci sono giovani vedi e per il mondo che speriamo che si sviluppi sempre in modo positivo nonostante